Ma tu che mi dici che stavi pensando al 3, eh? Sì. Assurdo. Assurdo. Bravo, Nick. Giuro, giuro. E voilà. Ora, quello che farò, ti metto una guida sotto. Ti metto una guida sotto e ti chiedo di visualizzare il pendolo. Bravissima. Ed è solo la tua immaginazione. Magari dici soffio, c'è un trucco, c'è qualcosa. La cosa incredibile sarebbe che se io ti girassi la guida, il pendolino piano piano cambia il suo movimento. Adesso se vuoi fare il passaggio extra, la cosa più incredibile, ti chiedo di immaginare di fermarlo e di farlo andare nell'altro senso di rotazione. Si può fare di più. Un numero, nella tua testa, tra l'uno e il cinque. Bene, bene. Due. Per la fine di tutto.